Situato in una mena vallata Umbra, lo stabilimento militare di Scanzano, adibito alla lavorazione di prodotti in scatola per il regio esercito, è uno dei meglio attrezzati per modernità di macchinari e vastità di locali. Attualmente vi si fabbricano le minestre scatolate sistema chiarizia, che costituiscono una pratica novità nel servizio di vettovagliamento in campagna, perché ovunque non sia possibile preparare o far giungere in buone condizioni il rancio comune, consentono di mettere a disposizione delle truppe un alimento sostanzioso e gradito. Mentre in alcuni reparti, con quintali di legumi scelti e freschissimi, si preparano saporiti minestroni a cottura graduale, in altri si confezionano, naturalmente a macchina, le scatole di latta da una razione. L'attuale produzione giornaliera assomma a 80.000 scatole, quantità che però può essere comodamente triplicata. In questo stabilimento modello, tutte le operazioni vengono compiute con la massima sollecitudine e la più scrupolosa igiene, impiegando circa 400 operai. La minestra fumante viene distribuita in ragione di circa 400 grammi per ogni scatola, che viene immediatamente chiusa ermeticamente a macchina. Le scatole passano quindi all'autoclave, per un'ulteriore assoluta sterilizzazione e per accertarne la perfetta chiusura. Questo tipo di rancio in scatola, ugualmente appetitoso, freddo che riscaldato, si dimostra particolarmente utile nell'Africa orientale, dove ne vengono spediti i genti quantitativi. Grazie. Grazie a tutti.